pace e buona giornata a tutti eccoci di nuovo insieme per meditare la parola del signore abbiamo iniziato ieri a leggere a meditare la prima pistola di giovanni abbiamo visto il capitolo 1 stamattina cominceremo a leggere il capitolo 2 e vi invito a soffermare la vostra attenzione sui versi da 1 fino a 17 naturalmente sono espressi una serie di principi che meriterebbero di essere meditati in modo approfondito ma come già detto altre volte il mio scopo non è certo quello di fare dei sermoni ma di dare degli spunti di riflessione e sono certo che nel leggere nel meditare personalmente questi versi il signore e lo spirito di dio sapranno come parlare al cuore di ognuno di voi permettetemi di fare qualche breve considerazione quindi innanzitutto lo scopo dell'epistola vi scrivo dice giovanni affinché non pecchiate lo scopo della parola di dio è questo il signore ci vuole rivelare ciò che è gradito a lui ciò che non lo è e questo in modo tale che noi possiamo conoscere ciò che è bene secondo dio e ciò che è male secondo dio e una volta avuta questa conoscenza il desiderio di dio è che ognuno di noi si impegni a praticare ciò che è bene spesso diciamo ma è possibile fare al 100 per cento la volontà di dio in noi ci deve essere il desiderio l'impegno poi è molto probabile possibile anzi è quasi certo che tutti quanti in un modo o nell'altro commetteremo degli errori cioè peccheremo e allora cosa facciamo dio ci rigetterà definitivamente no se qualcuno ha peccato dice l'apostolo giovanni dobbiamo sapere che noi abbiamo un avvocato presso il padre cioè gesù cristo il quale è morto proprio affinché i nostri peccati possono essere lavati e purificati quindi peccare è qualcosa che succede nella nostra vita quello che dobbiamo fare quando ciò accade è andare al signore pentirci ravvederci e aggrapparci al sacrificio di cristo come mezzo di purificazione dell'anima nostra ora la volontà di dio è quindi che noi facciamo ciò che gli dice che noi osserviamo i suoi comandamenti e questo è importante da ribadire perché se è vero che siamo salvati per grazia è altrettanto vero che la grazia in noi ci porta a ricercare le cose che dio comanda ed è per questo che l'apostolo dice che chi dichiara di averlo conosciuto e poi non osserva i suoi comandamenti è un bugiardo cioè la grazia di dio lo spirito santo che in un altro passo scritto che ci brama fino alla gelosia ci spingono nella direzione della parola del signore e come dice l'apostolo paolo in un altro passo nell'epistola ai romani una volta che abbiamo conosciuto la grazia non possiamo continuare a vivere nella schiavitù del peccato perché se è vero che la grazia di libri ci libera dalla schiavitù del peccato se noi ancora siamo schiavi vuol dire che mai siamo stati liberati e quindi abbiamo bisogno di andare al signore perché gli spezzi tramite sacrificio di cristo queste catene ora è importante questo perché l'apostolo giovanni lo ribadisce dicendo che quando noi dimoriamo in lui noi dobbiamo camminare come lui ha camminato e quando parla di cammino non si riferisce all'andamento del passo ma si riferisce al modo di vivere al modo di relazionarsi al modo di comportarsi sulla faccia di questa terra e quindi ci ria grazie il signore come cristiani di vivere come gesù visse in questo abbiamo bisogno dell'aiuto di dio abbiamo bisogno della sostegno dello spirito santo ma abbiamo bisogno anche di desiderarlo e di impegnarci a fare questo perché solo se in noi c'è questo vivo desiderio allora dio potrà guidarci per poter camminare in santità di vita non si tratta di una novità dice l'apostolo giovanni è qualcosa di chiaro sin dal origini della terra ma è qualcosa che deve essere ribadito perché nel corso dei secoli tanti falsi dottori e insegnanti della parola di dio hanno provato a far credere all'uomo che basta nominare il nome di gesù basta dire di aver creduto in gesù per essere apposto sì chiunque avrà invocato il nome del signore sarà salvato ma quella salvezza porta in noi un cambiamento e una rigenerazione che è sempre testimoniata dal nostro modo di vivere l'albero ricordiamocelo bene si riconosce dai suoi frutti poi l'apostolo giovanni dà un altro insegnamento importante camminare nelle vie di dio significa inevitabilmente vivere una vita che ci porta ad amare come lui ha amato e siccome la parola di dio insegna che dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo nigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna questo vuol dire che ognuno di noi si deve disporre ad amare il proprio prossimo sono insegnamenti di gesù sono insegnamenti molto chiari e sono insegnamenti che qui vengono ribaditi e ribaditi con forza tant'è che giovanni dice se qualcuno dichiara io amo il signore ma poi odia il suo fratello non è nella luce di dio ma è nelle tenebre e se non si ravvede da queste tenebre perirà insieme a tutti quanti gli altri che vivono nelle tenebre ci aiuti il signore affinché non abbiamo questi sentimenti verso nessuno l'odio non è qualcosa che viene da dio l'odio verso il peccato sì ma verso il peccatore no e dio ci dia grazia perché i tempi sono difficili le dottrine fasulle circolano con estrema facilità ma noi dobbiamo rimanere ancorati alla sana parola del signore e ora quasi un controsenso con quello che ho detto prima non amati il mondo come abbiamo detto che il signore ha amato il mondo da dare suo figlio beh bisogna capire cosa è inteso in giovanni 3 16 e cosa è inteso qui il signore ama l'umanità ama gli uomini e desidera che gli uomini sue creature possono diventare tutti quanti in cristo figli di dio ma come cristiani non possiamo amare il sistema di questo mondo caratterizzato dalla corruzione dal peccato dalla lussuria dall'ipocrisia dall'odio e da tutte le altre cose che ben conosciamo queste cose non devono essere in noi e queste cose non devono essere qualcosa che noi seguiamo noi amiamo le persone parliamo di cristo ma se si tratta di peccatori non ne seguiamo l'esempio ma cerchiamo col nostro esempio di portarli verso il cristo perché se noi amiamo il mondo e seguiamo il mondo la nostra fine sarà quella di coloro che camminano secondo le vie di questo mondo vale a dire lo stagno ardente di zolfo e di fuoco stamattina vogliamo prendere un impegno ben preciso con dio quello di camminare nelle sue vie per separarci e quindi santificarci per separarci dicevo da questo mondo pur continuando a vivere in questo mondo e a testimoniare di cristo con coloro che sono intorno a noi e dio ci dia grazia di non avere sentimenti di odio verso nessuno ma anzi di poter dar luogo in noi a quel sentimento di amore genuino e sincero che abita in ogni vero credente amore che ci spinge a desiderare la salvezza degli altri e che ci porta ad adoperarci affinché gli altri conoscono cristo la pace di dio sia con tutti quanti noi dio ci benedica in questo nuovo giorno grazie a tutti